Valorizzare, integrare, promuovere. Sono queste le parole d'ordine di Un Progetto per l'Italia, l'intesa firmata da Union Camere, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da FederCulture. L'obiettivo è quello di sviluppare una strategia di aggregazione delle imprese dell'ospitalità, della cultura e del commercio, per accrescere l'attrattività dei territori e riqualificare anche aree dismesse. Cultura ed economia rappresentano per il Presidente di Union Camere, Ivan Lobello, il cuore dell'accordo. Un progetto importante, con strutture importanti e con un'idea significativa, cioè nel senso noi abbiamo tantissimi borghi e città nel nostro paese. Sono realtà importanti, molto forti e che mettono dentro tante questioni, la cultura, gli spazi, i flussi. L'intesa soddisfa il Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Silvia Viviani. È molto importante, è un modo per mettere insieme, mettere in rete i nostri capitali, i nostri patrimoni, sia fisici, sia materiali che immateriali. Siamo tre soggetti che possono contribuire a promuovere progetti, lo vogliamo fare sperimentando, a promuovere progetti per restituire un futuro alle nostre città. Crede molto nell'alleanza anche il Presidente di FederCulture, Andrea Cancellato. Il senso di questo progetto sta nel mettere le imprese culturali e le imprese creative al centro del processo di rigenerazione urbana. Noi pensiamo che proprio attraverso la cultura vi sia un motore reale dell'economia italiana.